Da sempre è un gesto gentile e pieno d'amore il dono dei fiori, sia in vita sia dopo la vita. Per questo credo che il fiore, più di tutte le cose del mondo, abbia qualcosa in comune con l'anima. Rendere forte la fragilità è l'idea da cui nascono i miei fiori in ottone. Il fiore è delicato, l'ottone invece è un metallo umile e forte. È bello quello che l'uno dona all'altro, unendosi. Credo nella complessità della semplicità che viene data per scontata troppe volte. Dietro qualcosa di semplice c'è sempre qualcosa di complesso. Non è il metallo pregiato che rende importante un dono. Troppo spesso dimentichiamo che siamo noi che diamo valore alle cose e mai viceversa. Per questo fiori forti, fiori d'ottone, prima di essere una collezione di gioielli fatti a mano, vuole essere una storia di sentimenti. Ogni fiore ha il suo significato. Ogni fiore è diverso da un altro. Grazie. Grazie.